Non c'è molto da dire, sapevamo che volevamo vincere davanti al nostro pubblico, meritavano questa vittoria, anche purtroppo c'è sfuggito in gara 3 per pochi dettagli alla fine e penso che la squadra ha giocato con grande energia e grande intensità e siamo stati bravi a vincere e a rimanere concentrati fino alla fine. Pensi che siamo in serie ancora aperta? Aperta, certo che aperta, finché il basket insegna che non è mai finito, finché si arriva al 40esimo minuto, in questo caso ogni partita è sé, quindi adesso pensiamo sulla gara 5 e poi vedremo. In questo caso, però, il tuo giudizio sulla prova di funzione su McCaleb, perché non è che è facile, lo sappiamo, e mi interesserà sapere cosa ne pensi della tua prestazione da questo punto di vista. Sicuramente McCaleb è un grave giocatore, abbiamo detto più volte che è difficile da arginare uno contro uno, ma ha fatto un lavoro di squadra e penso che oggi per larghi tratti, così come in gara 3, l'abbiamo arginato abbastanza bene. È chiaro che qualche penetrazione alla fine lui riesce sempre a trovarla, perché è un giocatore di grande esplosività e grande talento.